Quando uscì questo film, Uncharted, uno degli ultimi film di Tom Holland, con Tom Holland, non riuscì a parlarvene per vari motivi, e quindi ho deciso di parlarvene adesso perché è uscito praticamente ieri, in questi giorni, su Prime Video, quindi lo trovate su quella piattaforma di streaming. Ebbene, questo è un film ispirato a una serie di videogiochi, una saga di videogiochi anche abbastanza famosa, che però fa da prequel ai videogiochi. Vi dico subito che non ho mai giocato ad Uncharted, non mi interessa giocarci, questa è una recensione cinematografica, non è una recensione alla lore, al rispetto della lore di cui con tutto il rispetto non mi interessa. Quindi questa recensione è prettamente una recensione cinematografica. Detto questo, sto film è una mezza scemenza, oltre ad essere un po' scopiazzato da ovviamente la saga di Indiana Jones, perché? Perché abbiamo una caccia al tesoro, la solita caccia al tesoro, i trabocchetti, i passaggi, gli enigmi, bla bla bla, insomma le solite cose. Ma invece che con Indiana Jones abbiamo Tom Holland come protagonista, essenzialmente questo è il succo della situazione, e ovviamente è una caccia al tesoro un po' più moderna, quindi contemporanea all'attualità rispetto a quella di, appunto, di Indiana Jones. La struttura narrativa è classica, è proprio classica, 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 classica. Cioè abbiamo la trama principale, poi abbiamo una sottotrama amorosa del nostro protagonista, ovviamente ci mancherebbe, Tom Holland è un super figo, quindi come potrebbe non avere una sottotrama amorosa? O comunque è una tresca con qualche gentil donsella. Poi abbiamo la sottotrama drammone, quindi sempre ovviamente legata al protagonista, e poi abbiamo le solite dinamiche ironiche, pienamente alla M.C.U. L'ironia di questo film è praticamente, ricalca esattamente quella del Marvel Universe. E lo sviluppo della trama principale è quanto di più prevedibile, così come anche il finale, non c'è assolutamente nulla che ti stupisce in questo film, ha proprio zero, e quindi siamo di fronte a una sceneggiatura che è quanto di più banale ci possa essere. Protagonista, come ho detto, è Tom Holland, almeno il suo personaggio. Allora a me piace Tom Holland, non mi fraintendete, ci mancherebbe, ma mi sembra che reciti sempre allo stesso modo, e fa soprattutto personaggi sempre molto simili a quelli di Peter Parker, cioè il ragazzetto un po' sfigato, ma un po' geniale, che in realtà piace a tutte le donne, quindi come può essere sfigato questo personaggio, non lo so, magari piace proprio perché è sfigato, probabilmente, ecco. Ma soprattutto in questo caso, così, piccola, piccola notazione, a me sembra leggermente sessualizzato, ma proprio leggermente, a parte che sta in parecchie sceme a torso nudo, e vabbè. Ma c'è proprio una scena in cui lui esce dall'acqua, con la maglietta bagnata, bella, aderente, addosso, con tanto di addominali, pom pom pom, che gli risaltano sull'addome. Ora, può essere sicuramente un piacere per gli occhi, anche per il sottoscritto ci mancherebbe, io apprezzo la bellezza, ma io non ho sentito di uomini o donne che si sono lamentati per la sessualizzazione di questo attore, in questo caso. Ma, come sappiamo molto bene, anche in ambito cinematografico, si fanno due pesi e due misure. Poi abbiamo Mark Wahlberg, a me questo attore non mi ha mai ispirato niente di particolare, infatti non è che faccia questi grandi film, e ha creato una bella dinamica con Tom Holland, bella, simpatica. Vi ripeto, però è un'ironia che è praticamente la stessa dell'M6O, quindi è un'ironia adolescenziale, che puoi apprezzare o meno. Più che altro, a me è piaciuto Antonio Banderas, il nostro cuoco di biscotti, mi ricordo che cucinava in televisione. Ragazzi, potete dire quello che volete a Banderas per quello che si è messo a fa, ma lui è bravo come attore. Infatti, lui che rappresenta il V-Line inizialmente, io la considero una delle cose migliori, forse l'unica cosa veramente buona di questo film. E purtroppo viene eliminato molto presto, quindi hanno fatto anche una scelta sbagliata. Regista del film è Ruben Fischer, che è lo stesso regista di Zombieland, la saga di Zombieland, ma anche di Venom. Quindi con Zombieland, beh bene, a me piace Zombieland, con Venom, insomma. La sua messa in scena è al limite dell'assurdo, del ridicolo. È spettacolare, ma è spettacolare anche perché risulta veramente assurdo tutto quello che si vede all'interno di questo film. La forza di gravità non esiste, la fisica l'abbiamo mandata a farsi benedire, esattamente come Fast and Furious. Siamo sullo stesso livello, le scene aeree sono spettacolari, ci mancherebbe, ma sono ridicole. Non esiste fisica, non esiste gravità. Poi, che qualcuno possa apprezzarla anche per questo, va bene, contenti voi. Io personalmente, in un film che comunque dovrebbe avere un contesto realistico, perché non siamo in un film di fantascienza, è in un film grottesco. Quindi dovrebbe avere un minimo di realismo, delle scene come quelle, come quell'aerea con Tom Holland, che sembra avere i jet ai piedi e spazia nell'aria, ma non solo lui, come una libellula, non si può guardare, non si può guardare, non si può vedere. Quindi anche la messa in scena, purtroppo per quanto affascinante, perché comunque spettacolare, ha i suoi chiari limiti e debolezze. Quindi è un film fatto per chi? Fatto per i fan dei videogiochi, e per i fan di Tom Holland. Tutto qui, non so manco se a questi fan potrà piacere, mentre a tutti gli altri non so effettivamente per qual motivo potrebbe mai piacere questo film. E io quindi ho finito, vi saluto anche, un saluto anche dalla piccola Claudi, a presto, ciao!